Non posso altro che augurarvi un felice Natale a tutti e un buon anno di cuore da Accademia Nazionale Pizzadoc e Vincenzo Cotia. Grazie a noi, vi facciamo tantissimi auguri noi e tutta la staff dell'Accademia Pizzadoc. Grazie, vogliamo augurarvi un buon Natale e un buon anno di notte Alessandro Vella Paglia. Sono qui oggi per farvi gli auguri da parte mia, di Daniele Papa, da parte di tutta l'Accademia Pizzadoc. E auguro buon Natale, felice Natale nuovo, questo 2020 sarà pieno di emozioni. Ciao, caro e fiamme. Ciao, sono Silvio Puntazzo, auguro buone fesse a tutti gli amici dell'Accademia Nazionale Pizzadoc, in particolare ai nostri corsisti e a tutti quelli che ci sceglieranno per adorare i tuoi minuti. E auguriamo un buon Natale dall'Accademia Nazionale Pizzadoc e un buon 2020 per i tuoi corsisti. In realtà vi auguro a tutti buon Natale. Buon Natale, buon anno e buon Natale. Buon Natale e buon anno. Ringraziamo e diamo gli auguri innanzitutto al Presidente Antonio Ciaccoli e a tutti i pizzeioli d'Italia. Vi aspetta l'Accademia Pizzadoc, anno nuovo, tante sorprese. Dai ragazzi, ciao! Volevo augurare un buon Natale e un felice anno nuovo a tutti gli amici dell'Accademia che ci hanno seguiti quest'anno, a tutte le aziende partner e sperando di vivere un 2020 ancora ricco di soddisfazioni con l'Accademia Nazionale Pizzadoc. Volevo auguri!